La mia prima messa a Kiev è qui nel centro di comunicazione Questo vuol dire andare proprio al centro della nostra missione Vuol dire riscoprire ancora una volta a che cosa siamo chiamati E questo означает, щоб відкрити ще раз Do чого мы, я поклика Immediatamente dopo la giornata mondiale delle comunicazioni sociali E voi sapete che il tema di quest'anno scelto dal Papa e il suo messaggio erano su silenzio e parola, cammino di evangelizzazione E' interessante, è una grande sfida A prima vista sembra contraddittoria Noi siamo impegnati nella comunicazione e il Papa ci invita al silenzio Perché è nel silenzio che noi scopriamo chi è l'altro E' nel silenzio che noi possiamo ascoltare l'altro E' nel silenzio che possiamo ascoltare Dio E' nel silenzio che noi diamo un vero spessore alle nostre parole E' nel silenzio che noi diamo un vero spessore alle nostre parole E' nel silenzio che noi diamo un vero spessore alle nostre parole E' nel silenzio che noi diamo un vero spessore alle nostre parole E ora questa mattina è una cosa bella poter essere qui. E mi fa piacere vedere ciò che voi state facendo. Io credo che ci sia una cosa importante da sottolineare. Dobbiamo utilizzare le moderne tecnologie per annunciare la parola di Dio. Tutto ciò che la tecnologia crea è a nostra disposizione. Ma poi riscopriamo ancora una volta che il punto ispiratore della nostra comunicazione è la testimonianza. Ma ancora una volta ricordiamo che ciò che inspira la nostra comunicazione, la nostra fede in Gesù. La nostra comunicazione deve nascere da un cuore fedele che ama il Signore. La nostra comunicazione non è solamente legata a una sofisticata tecnologia. Ma deve nascere da una testimonianza profonda, da un amore profondo per Gesù. Io ho un ricordo particolare. Che forse anche voi avrete. Io ricordo l'ultima volta che Giovanni Paolo II è apparso alla finestra per parlare la domenica con la gente in piazza San Pietro. Non poteva più parlare. Non poteva più parlare. Ma i suoi occhi. Ma i suoi occhi, la sua vita parlavano a tutti noi. Ma i suoi occhi, i suoi occhi, i suoi occhi, i suoi occhi, говорili, promagli da tutti. Sempre di più ci accorgiamo che comunicare non è solo dire parole. Ma testimoniare con la vita. Ecco perché questa mattina siamo qui. Perché è qui accanto all'altare del Signore. Noi riscopriamo che cosa significa essere amati. Noi dimentichiamo molte volte che questa è la sua ultima cena. E Gesù quella notte ci diceva che non c'è amore più grande di colui che dà la vita per l'amico. E Gesù quella notte diceva che non c'è più grande di colui che dà la tua vita per l'amico. E poi Gesù diceva che si è l'amico. E poi Gesù ha detto a voi, i miei ragazzi, ho una domanda fondamentale che Gesù domandava a Pietro. E questo è un'importante questione, che chiede Iisus Petra. Pietro, mi ami tu? Pietro, ti me ne lubiš? E Pietro risponde, Signore, tu sai che io ti amo. E Pietro risponde, Signore, tu sai che io ti amo. Gesù l'ho domanda per tre volte. E Iisus chiede tre volte. E Pietro per tre volte gli risponde, Signore, tu sai che io ti amo. E Pietro tre volte gli risponde, Signore, tu sai che io ti amo. Se questa mattina Gesù domandasse a me la stessa cosa. Якщо c'è o ranco, Iisus zapitare a me ce same. Mi ami tu? Ci ti me ne lubiš? Quale sarebbe la mia risposta? E якою є моя відповідь? Anche io sarei capace di dire come Pietro, Signore, tu sai che io ti amo. Tak samo, če io vedo zdipne i відповісти, як Pietro, Господi, ti знаeš, що teba люблю? Perché vi dico queste cose? Czemu ja voru vam ci stavare? Perché chi lavora nel campo della comunicazione deve avere un cuore innamorato di Dio. Perché voi, хто працює na poli za swoją masę informacij deve avere un cuore innamorato di Dio. Io credo che sia qui proprio il segreto della nostra comunicazione. Ja думаю, що саме тут є tajemnica e proprio avere un cuore innamorato di Dio. Mate serce zakochane babbui. E poi c'è l'altra dimensione. E še inizio vimere. Siamo chiamati, ce lo ripete Giovanni Paolo II e ce lo ripete il Papa Benedetto XVI. Ma je poklikane jak повторuje Ioan Paolo II la Chiesa deve contínuamente dire la verità sull'uomo. Cerkwa Noi siamo chiamati a ricordare contínuamente nel mondo chi è l'uomo. Mi poklikane щоб pregaduati bezpergno свіtovi kim є l'uomo. Siamo chiamati a difendere e a proteggere la dignità dell'uomo. Mi poklikane щоб obroniate e obvergate l'ident l'uomo. E in certi momenti non è facile dire sempre la verità sull'uomo. Ma questa è la nostra vocazione. Questa è la vocazione dei mezzi di comunicazione della Chiesa. Dire la verità su Dio e sul suo amore per l'uomo. dire la verità sull'uomo e sulla sua vocazione e sulla sua dignità. E dire la verità sull'uomo e sull'uomo. Ecco perché siamo qui. Perché in certi momenti in certe situazioni non sempre è facile dire questa verità. E abbiamo bisogno di essere aiutati da Dio. Abbiamo bisogno di chiedere da Lui la forza perché il nostro cuore sia forte. perché la nostra mente sia sempre illuminata dalla sua parola. perché nel cammino della vita i mezzi di comunicazione della Chiesa hanno questa responsabilità grande di illuminare il cammino degli uomini ricordando la verità su Dio riaffermando la verità su l'uomo pregadio la verità su l'uomo e utvergio la verità su l'uomo ecco perché allora la pezza di questa mattina proprio è dedicata a voi per ringraziare il Signore di ciò che state facendo ma anche perché il Signore benedica i progetti che avete per il bene di questo paese ma perché ancora una volta la luce e l'amore di Dio risplendano sempre di più in questo mondo e e che Dajdut scotty, provoce a noi.